La RSU dei lavoratori di Ecoambiente scrive i vertici azientali al prefetto e alla provincia per rimarcare i sacrifici in ordine alla qualità del lavoro all'impianto ambientale sulle condizioni fisiche e le patologie più o meno gravi che ricadono solo ed unicamente sul personale addetto al quale non si può chiedere anche di accettare una decurtazione del proprio salario. Il richiamo poi fatto dalla Società della Legge 89-2018 per giustificare il contenimento dei costi del personale ed ancora rivendicano in piena fase di contrattazione poi la Società in modo unilaterale ed a nostro avviso illegittimamente il 23 luglio 2018 ha rescisso il precedente accordo di secondo livello violando di fatto la PACS sindacale. Procedura quest'ultima all'attenzione dei nostri legali di fiducia. Alla luce di quanto esposto comunicano la proclamazione dello Stato di agitazione dei dipendenti dell'Ecoambiente Salerno S.P.A. richiediamo ai fini di esperire il tentativo di conciliazione con le parti e la convocazione di tutti gli interessati presso la Prefettura di Salerno. In caso di mancata convocazione si darà avvio alle procedure per la proclamazione dello sciopero e si attiveranno tutte le forme di lotta necessarie per la tutela dei diritti contrattuali dei lavoratori. Grazie a tutti.